Con un nuovo opinionista di cui non faremo il nome per ovvi motivi perché altrimenti poi il giornale per cui lavora non lo paga più e pare che per, sto leggendo questa mattina, che per problemi burocratici l'arrivo di Dumbia Seidu slitta volevo sentire il suo parere insomma in merito a questo il solito giochetto di una carta stampata Eh penso pure io perché molte pare che questi, con l'emergenza che c'è sta, non hanno presentato tutti gli incartamenti, tutte le cose Noi tifosi di tutte le squadre, un giocatore di questo livello del campionato italiano comunque innalza l'attenzione Senta una vina un po' polemica No, effettivamente è un buon giocatore Un giocatore che ha uno score, non indifferente insomma Poi si conosce con Gervinio che gli fa le traduzioni Non c'è anche un po' di curiosità insomma, vedete se è stato un acquisto azzeccato oppure C'è, c'è Un dei tanti non Quindi tu dici di non preoccuparsi insomma No, io spero e dico insomma che è una chiacchiera Un chiacchiericcio romano, per solito chiacchiericcio romano Per il tempo di festeggia pure un po' in strada insomma Insomma, ripente se no Dei festeggiamenti Vabbè insomma, Dumbia, voi dice, noi si gioca domenica alle 15 Se vuoi venire, a noi ci fa piacere insomma Sì, ecco, quello è l'altro argomento che volevo dibattere Perché già si diceva, dal giorno dopo della firma Che no, no, a parte quello Che era stato messo una postilla Diciamo che lui non doveva giocare a Cagliari Roma E quindi si sono inventati sta calla dell'infortunio Beh, tra l'altro meglio così insomma Ce l'abbiamo disponibile Ecco, tra l'altro abbiamo scoperto il Giovane Verde Quindi va bene così Poi abbiamo vinto Quindi siamo contenti Un piano, un porco in più Ecco, va bene Allora, il nostro esperto giornalista dice che è un chiacchiericcio Quindi non date retta Lo aspettiamo domenica alle 15 Stadio Olimpico in Roma Va bene? C'è, c'è, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti